ed allora ragazze mie siccome vi ho promesso appunto che vi facevo vedere i capi indossati ecco qua questa è la camicia mi sono messa vicino così la vedete bene vedete proprio è molto molto luminosa vedete che bell'oro è un oro molto bello mi piace tantissimo quest'oro molto molto luminoso scusatemi la manica guardate proprio il tessuto che lucido vi ricordo allora l'ho presa da zara questa è una xl ed è costata 32 e 99 questa proprio per natale per capodanno diciamo è un salva un salva serata perché appunto mettendo già questa camicia oro mettete sotto una gonna nera io intanto ho messo una gonna nera un pantalone nero e siete a posto quindi ecco qua la camicia spero che vi piaccia guardate che bello il tessuto come morbido è proprio il colore dell'oro è molto molto bello ragazze ed ecco il super capo ho abbinato questa possette tutta brillantinosa perché appunto è un capo elegante da sera naturalmente io questo lo vedo benissimo con il nero sotto con un tubino nero ma ci vedo bene proprio il nero vedete lunga c'è la cinta si può naturalmente annodare e poi c'è il cappuccio vediamo con una mano se riesco c'è questo bellissimo cappuccio vedete e quindi ragazze questo è il super capo è bellissima e morbida è veramente una pelliccia ecologica che rispecchia in pieno le vere pellicce che ormai ragazze non ci sono più non esistono più io figuratevi che l'altra volta sono stata al mercatino dell'usato dove io vado e c'erano un sacco di pellicce che un tempo costavano con la lira costavano 10 12 milioni e poi con l'euro 6 7 mila euro 10 mila euro e che adesso vanno vendute a 300 400 euro tutti i bisogni perché le pellicce vere non le vuole più nessuno e chi ce l'ha non le indossa e quindi le danno via per niente quindi questa è una pelliccia invece ecologica nessun animale è stato ucciso è fatta molto bene rispecchia molto somiglia molto appunto alla volpe dell'agroellandia però vi ripeto ecologica nessun animale è stato appunto ucciso ok ragazzi allora io vi quindi ragazze vi stavo dicendo nessun animale se nessun animale è stato ucciso io vi saluto prima che il tempo finisca di nuovo un bacio ragazze noi ci vediamo domani mattina con il video delle pulizie